Fatto la popò liquida O comunque l'altro giorno sono andato allo stadio Tornando allo stadio, dato che allo stadio c'hanno offerto da mangiare Era un buffet praticamente abbastanza ampio Tornando a casa mi hanno riaccompagnato nel punto d'incontro dove avevo lasciato il motorino Mentre gli altri vanno via e sto per salire sul motorino Mi rendo conto che sul motorino non potevo andarci Perché la tratta era circa 20 minuti di motorino per tornare a casa E mi stavo tremendamente cagando addosso Al che ho pensato, adesso faccio la cacca da qualche parte prima di salire sul motorino Cosa che ho trovato abbastanza difficile La strada era una strada abitata e non era nemmeno così tardi Perciò ho iniziato a camminare cercando un punto Il punto non lo trovavo, più camminavo, più mi stavo per cagare nei pantaloni Al che mentre camminavo c'era della gente che mi camminava davanti Ho detto basta lo faccio Mentre camminavo mi sono chinato, mi sono cacato a terra Mi sono tirato i suoi pantaloni e ho cominciato a camminare nella direzione dei ragazzi Nessuno si è accorto di niente Fine della storia Ragazzi giochiamo a Fortnite? No Grazie a tutti